Allora io ieri sera ero su quel ponte lì che riprendevo tutte le luci di questo affronte di qua, è più bello di sera però. Le luci erano tutte di questi palazzoni qua, i negozi qui. Adesso vado dentro al mercatino, c'è un bel mercatino. Per fortuna ho già aperto che riesco a vederlo. Grazie.